Ciao a tutti, io sono l'Italandia, mi è venuto con un nuovo video. E devo fare una piccola promessa. Questa è la mia prima volta che faccio un home tour sul mio canale. Quindi se mi vedete un po' freddo, sapete perché. E poi, come vedete il titolo, tanza della crociera. Batta a chiacchiere e cominciamo. Qui si entra, qui c'è un amadio, qui c'è il televisore, qui c'è la sguivania, i due letti, un grosso specchio, dei quadri, e qui c'è un altro specchio, e qua c'è una porta dove si porta del bagno. Ecco qui il bagno. Qui il tetto, qua. E qui si vede come si, quando si entra. Andiamo a mettere caldo, qua c'è un pouf, qua c'è il forno, che non ho ancora provato, e qui c'è ministerico. Bene, questo video si chiude qua. Se il video vi è piaciuto, mettete il like, che i vertivi al canale, ma prima di solitarvi, una cosa devo dire. Se il volto da vita è grigia, solidete, perché avete un'unità sola. Ciao, alla prossima.